Ciao Marco, ciao, se non ti sbrighi non ti trovi niente, che buona? No, niente. Qua state mangiando? Poland lunga. Ho mangiato senza piatti? Senza piatti, facciamo lavorare a te stasera. Ci muore la bocca per mangiare, come fai a sapere qual è la tua fruzione? Andiamo a letti finchè ce n'è. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.